Oggi ragazzi vi porto alla recensione di un oggetto per la casa, me lo manda AOK ed è una Smart LED Atmosphere Lamp una lampada atmosferica touch, veramente molto molto bella che ho gradito particolarmente innanzitutto il suo design plastico, possiamo definirlo così in una parola perché i materiali sono principalmente plastici troviamo però questo bellissimo bordo satinato grigio che appunto crea questa circonferenza intorno alla lampada è interessante questa circonferenza appunto grigia perché è interamente touch, in qualsiasi parte voi toccherete verrà percepito il tocco sul retro troviamo semplicemente appunto il foro per attaccare l'alimentatore e frontalmente come vedete c'è il LED c'è un LED arancione e blu, arancione diventa quando toccate quindi quando percepisce il tocco dopo aver fatto questa sorta di mini unboxing vi faccio vedere come funziona con il primo tocco si accende la lampada, con il secondo si aumenta di intensità, il terzo ancora il terzo livello di intensità toccando un'ultima volta per 3-4 secondi si accende l'atmosferica o meglio questa gamma cromatica di colori che va a intercambiarsi creando questa atmosfera molto particolare descrivono addirittura questa atmosfera come romantica sulla scatola del dispositivo la cosa che mi è piaciuta principalmente di questa lampada è il touch, funziona veramente molto bene e anche l'illuminazione è molto molto buona, veramente una stanza con la massima, con il terzo grado di illuminazione a luce bianca è veramente molto potente quindi la stanza si riesce ad illuminare senza difficoltà un altro aspetto che ho gradito particolarmente di questa lampada è il fatto che la luce non sia sparata e non dia fastidio agli occhi, anzi sia diffusa veramente in modo ottimale e non dia assolutamente fastidio, anzi rende l'ambiente veramente molto rilassante e piacevole per color a cui interessassero invece i dati tecnici vi dico che sono riposti sulla scatola quindi non c'è da perderci troppo tempo, in ogni caso la vita di questa lampada è assicurata per 35.000 ore quindi veramente un'esorbità di ore ci sono 16 milioni di colori perché effettivamente tra un colore e l'altro ci sono tutte le gradazioni quindi va un po' a prendere tutta quella che è la gamma cromatica una cosa che c'è scritta sulla scatola mi ha veramente incuriosito ovvero che aiuta a migliorare il sonno quindi adesso non mi resta che accenderla e provare a riposare poi su telegram vi dico se funziona o meno bene ragazzi il video è finito, io vi lascio due video che potete andare a vedere se non li avete ancora visti il pannello solare di AUK è veramente interessantissimo è una polaroid un po' vecchiotta ma che mi ha aiutato a parlarvi della fotografia ciao 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 ciao